Non è servito a niente dare i numeri, fare i nomi, sentire ragioni, restituire emozioni, tentare spiegazioni. Non è servito a niente. Sono passati esattamente quattro mesi da quel maledetto 7 ottobre e siamo ancora qui a raccontare il massacro di un popolo come vendetta per lo scempio di un altro popolo, la rappresaglia del governo di Israele per il pogrom di Hamas. E così a Gaza si accumulano i morti, quasi 28.000, quasi 12.000 bambini. Si accumulano le macerie, distrutta la metà delle case, si esauriscono le scorte di cibo. L'acqua è un tesoro introvabile. A Rafa gli sfollati cercano di collegarsi a vecchie tubature provenienti dall'Egitto, appena oltre la barriera. Nei pochi ospedali funzionanti i pochi medici rimasti lasciano morire i feriti gravi per dare qualche chance agli altri. Ma quale chance? I civili palestinesi non hanno scampo. Se l'esercito israeliano entrasse a Rafa, nell'estremo sud della striscia dove si sono ammassati, sarebbe un'ecatombe. Ma anche Zahal conta ormai 563 soldati uccisi, a riprova che i miliziani di Hamas non sono finiti, mentre i loro capi, sul cessate il fuoco mediato da Catare ed Egitto, propongono scambio di ostaggi con detenuti palestinesi, ricostruzione di Gaza, ritiro delle truppe israeliane e restituzione dei corpi, tra cui quelli di 31 ostaggi, quasi tutti uccisi lo stesso 7 ottobre. Finora la mobilitazione dei familiari non ha convinto Netanyahu a negoziare. Vedremo se il segretario di Stato americano Blinken, all'ennesimo viaggio nella regione, otterrà qualcosa.